Nel suggestivo borgo di Lapio, il 25 novembre, si celebra Santa Caterina, patrona del paese, con dei grandi falò, detti lumanerie. A passaggio della processione, i vari quartieri del paese si illuminano con i fuochi accesi dall'intera comunità. Il culto per Santa Caterina d'Alessandria è stato introdotto dalla famiglia Filangeri in età feudale. I Filangeri possedevano anche una reliquia, tuttora custodita in una teca posta nella chiesa madre. La festa affonda le sue radici nel periodo pagano e nelle tradizioni contadine, che segna la fine di novembre come una delle fasi di passaggio delle stagioni e la fine dei raccolti. Quest'anno, visto la contemporaneità della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, spiega il promotore dell'evento, Eugenio Areniello. Nel quartiere di Piazza Filangeri, come osserviamo dalle immagini realizzate da Giuseppe Colella, si è deciso di lanciare un messaggio importante, rivolto proprio a questo tema, purtroppo sempre più attuale. Una frase, un messaggio da cui ripartire per coinvolgere nuove generazioni, un gesto simbolico dove un bambino dona una rosa a una bambina, tenendo sempre in mente, conclude Areniello, che una donna non si tocca nemmeno con una rosa.